A tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa. Spesso parlando con amici, parenti, compagni di scuola, mi viene chiesto che cos'è, saranno giovani e cos'è realmente il nostro obiettivo. Ci siamo lasciati l'anno scorso dicendo che la nostra intenzione sarebbe stata quella di creare un po' di riferimento per tutti i giovani. La sala qui presente, tutti voi, dimostra che in parte ci siamo riusciti. La nostra missione, la ragione del nostro stare insieme è quella di unire divertimento e cultura, un binomio che abbiamo scoperto piace molto ai giovani. Vi assumo brevemente quali sono stati i momenti più importanti della nostra associazione. Il 26 maggio 2012 abbiamo organizzato un incontro con l'onorevole Lara Comi e la ricercatrice Veronica Mainini sulla salute dell'università in Italia e i test d'ingresso. Successivamente, il 13 settembre 2012, abbiamo organizzato un torneo di calcio in cui siamo riusciti ad unire nel nome dello sport 90-100 ragazzi. E da luglio Alex Alberio, il direttore del nostro giornalino, è l'ultimissima news della nostra associazione, è stato l'accordo tra il comitato studentesco saronnese e saranno giovani. Personalmente, io mi ritengo molto soddisfatto dei risultati ottenuti. Si può fare molto, si potrà fare molto tutti insieme. Siamo una grande squadra e soprattutto giochiamo per vincere, per costruire il nostro futuro. Grazie.